Allora, siamo in diretta, quindi benvenuti a questo nuovo incontro del nostro Bicchiere della Staffa. Questa sera abbiamo il piacere di parlare con Grazia Roncaglia, che appunto ci racconterà di questo suo nuovo libro, che è appunto stato pubblicato da poco, nel mese di settembre, e che si intitola Aiutami a stare attento, attività, giochi e meditazioni per allenare attenzione e consapevolezza nei bambini in età scolare. Allora, ecco, prima di entrare proprio nel vivo e quindi di analizzare bene i contenuti e l'intento, quindi anche il proposito di questo libro, vorrei appunto introdurre un attimo Grazia Roncaglia, che è una nostra autrice da un po' di tempo e abbiamo già pubblicato con lei più di un libro e questo è effettivamente il secondo con Lindau e però il quarto con il nostro gruppo editoriale e il primo di Lindau, che è uscito nel 2020, un periodo abbastanza infausto, era verso un'educazione risvegliata. e quindi vorrei appunto parlare un po' prima di tutto di Grazia, di quello che fa, e direi che potremmo iniziare prendendo spunto dall'introduzione di Aiutami a stare attento, nella quale lei appunto si dice, proprio inizia questa introduzione, dicendoci che le sue due grandi passioni nella vita sono la meditazione come pratica personale e i bambini. Ed effettivamente lei è insegnante presso la scuola primaria, nella quale da parecchi anni ormai che ha portato la pratica della meditazione e della consapevolezza, che non è un semplice strumento per la didattica, per l'insegnamento, ma è un qualcosa di molto più, direi più profondo, che informa di sé, insomma, un po' tutta la didattica, non solo la didattica di Grazia, ma anche il suo modo di concepire l'educazione, la scuola, il rapporto con i bambini e via dicendo. Quindi direi, Grazia, raccontaci un po' appunto di questo tuo, del modo che hai di insegnare, di concepire la scuola, alla luce appunto anche della meditazione e della consapevolezza mentale. Bene, innanzitutto saluto tutti e prima tu dicevi, sì, non è solo uno strumento per la didattica, no, è proprio uno strumento per l'essere umano, questa educazione all'attenzione e alla consapevolezza. È un po' un'educazione alla vita in un certo senso, perché ci porta a essere presenti davvero nella vita e non a lasciarsi che la vita ci scorra addosso senza che neanche ce ne accorgiamo, oppure subendo stati emotivi. E questo è già evidente a scuola, perché i bambini, nella scuola primaria, noi abbiamo in classe i bambini che sono esattamente il prodotto di quella che è la società intorno. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo dei bambini che hanno già dei ritmi di vita che sono assolutamente frenetici, stressati, iperstimolati, videogiochi, dopo la scuola a parte i compiti, le materie, le cose da studiare, il nuoto, le attività sportive, gli impegni della famiglia. Insomma, abbiamo dei bambini che sono veramente inseriti nel sistema. Ecco, il mio sguardo è sempre di tipo sistemico e questo l'ho imparato anche dalla meditazione, che non siamo isolabili, non siamo separati. Non a caso il secondo libro che ho scritto, pubblicato da Età dell'Acquario, si intitola Connesso a me stesso, agli altri al pianeta. Non siamo isolabili e anche i bambini non lo sono. Sono proprio il frutto, sono condizionati dalla società in cui sono inseriti, dalla famiglia, dalla vita frenetica che scorre intorno, in cui loro sono, un po' giocoforza, sono immersi in questo modo di stare. E quindi è proprio qualcosa di importante questo tipo di educazione. Ma io non ho mai deciso di fare questo a scuola. La cosa più bella è stata che è una cosa che è arrivata parallelamente a quello che era il mio percorso, il mio percorso personale come meditante era iniziato molto tempo prima, ma a un certo punto è a scuola, ecco tu dici, le due passioni. La meditazione, perché io ne trovavo, ne trovo un beneficio, e l'altra passione erano i bambini. Ormai io insegno da trent'anni, quindi è proprio qualcosa che, insomma, è iniziato parecchio tempo fa. E da subito avevo, cercavo la strada del cuore, cercavo anche quando non avevo tanti strumenti, perché gli insegnanti, esattamente come i genitori, tra virgolette, concedetemi l'espressione, non nascono imparati, si fanno le ossa sul campo e crescono insieme agli alunni che hanno. Io ogni tanto ripenso agli alunni che avevo i primi anni, dico, poverini, chissà cosa gli avrò fatto. No, a parte tutto, io avevo subito, sentivo che volevo entrare in relazione con loro e quindi cercavo empaticamente delle strade per arrivare al cuore e la strada può essere diversa per ciascun bambino per arrivare al loro cuore. Poi a un certo punto mi sono proprio detta, ma caspita, ma qua a scuola le mie colleghe, io stessa, diciamo sempre questa stessa frase ai bambini, state attenti, state attenti, ma io so come si fa, è stata proprio la realizzazione di questo, quando ho detto, ma io so come si fa, perché quando mi siedo sul cuscino e voglio ascoltare il respiro e scopro che sto programmando la lezione di domani a scuola e mi accorgo di essermi distratta, cosa faccio? Riacchiappo quella mente con gentilezza e la riporto al respiro, perché ho scelto ora questo esempio di oggetto, di ancora per l'attenzione, ma può essere qualsiasi l'ancora della nostra attenzione, nella meditazione focalizzata su un oggetto. Loro ho detto, ma io so come si fa a stare attenti. Io ho cominciato a dire, ma perché non spiegare ai bambini come? E non l'ho fatto in maniera scolastica, l'ho fatto in maniera giocosa, ho cominciato a disegnare una torta, dire una torta che è poi presente, è una delle illustrazioni di Felicemente e che in qualche modo sotto forma di un campo da calcio ritorna anche in Aiutami a stare attento. Ho detto, vedete, questa torta è costituita da tre ingredienti. Uno è l'attenzione, l'attenzione devo decidere e sapere dove la metto. Poi c'è la consapevolezza, che è come un vigile, una vigilessa, è attenta, si accorge quando la mia attenzione ha perso il suo focus, il suo oggetto, e con gentilezza la riporta. E poi c'è la fetta più grande, nel campo da calcio sarebbe lo spazio, l'attenzione sarebbe la palla, l'arbitro è la vigile consapevolezza, e questo campo da calcio molto grande è la nostra presenza, la nostra spaziosa apertura, la nostra connessione con quello che abbiamo intorno. E da questa semplice intuizione è nato tutto il percorso, un percorso che è appunto iniziato dall'attenzione per arrivare poi dritto al cuore, al cuore perché un bambino quando è attento, i bambini sono incredibili. Innanzitutto è bellissimo vederli, mettere in pratica tutti i giochi, le attività che io ho inserito nel libro, perché sono attività divertenti e giocose, ma sapete che cosa mi colpisce dei bambini? La loro serietà, la loro presenza, il loro investimento. Le fanno queste pratiche, le vivono con tanta presenza ed è emozionante anche solo guardarli. L'altro giorno li ho portati in giardino e ho detto andiamo a scoprire l'autunno, bambini di terza elementare, otto anni. Andiamo a scoprire l'autunno, scopriremo l'autunno con l'attenzione. Desidero che scegliate un particolare, un particolare che non lo decidete con la mente concettuale, ma lasciate, state aperti in questa spaziosa apertura e lasciate che vi chiami un particolare del giardino, il giardino dove facciamo tutti gli intervalli, quindi un posto che conoscono benissimo, molto bello perché la natura ci regala degli splendidi angoli e siamo scese in giardino e loro, chi ha scelto il filo d'erba, chi ha scelto una ghianda, chi una radice di un albero, chi ha abbracciato l'albero, ciascuno col suo particolare. Sono stati dieci minuti. Quando ho risuonato la campana, che è il nostro segnale sonoro, il nostro accordo per tornare con l'attenzione a noi stessi, in questo caso segnava la fine dell'attività, con una calma incredibile sono tornati e mi hanno detto maestra ma l'attenzione è amore, ma l'attenzione è relazione, quando tu osservi con attenzione non c'è solo quello che stai osservando, ci sei anche tu che osservi, cioè sono veramente saggi, scoprono delle cose che mi emozionano, mi toccano perché è stato un cammino, un'attività dopo un'altra che non ho mai abbandonato ed è diventato sempre più pregnante. Qualcuno mi chiede ma quanto tempo dedichi a queste attività nella tua giornata scolastica? E io dico tutto. Perché? Perché non è che non facciamo italiano, non facciamo storia, geografia, ma facciamo tutto con una modalità diversa. Perché sempre ai bimbi dico che possono fare qualsiasi cosa in due modi, dal lavarsi le mani a camminare, qualsiasi attività possiamo farla in due modi, o in modo attento, con presenza, oppure distrattamente. Allora io quello che faccio è semplicemente un richiamare la qualità del nostro stare insieme e parti dall'attenzione, che potrebbe sembrare qualcosa agli insegnanti e ai genitori, piace molto, perché tutti si rendono conto che l'attenzione è labile proprio per via di queste iperstimolazioni. Ma l'ho anche scritto dentro il libro. Questo è l'intento dichiarato, ma poi c'è l'intento clandestino, perché quando volgi l'attenzione all'interno, incontri te stesso. E i bambini che incontrano se stessi sanno tornare al loro posto sicuro, alla loro isola di calma, sanno tornare al posto dove si possono centrare quando le cose intorno non vanno proprio come pensano. Sanno, hanno imparato una strada importante che poi si porteranno dietro per tutta la vita, quella capacità di fermarsi, di tornare a sé e di dire come, cosa sto provando in questo momento? È proprio un incontrare il momento presente che è fatto anche di emozioni e quindi di vedere che quelle emozioni, una delle attività molto conosciute che nel libro e che non ho inventato io è quella del barattolo della mente e quindi questo barattolo pieno di glitter, di sassi, di sabbia che quando è agitato, come la nostra mente quando è agitata, si offusca e non ci permette di vedere la realtà così com'è. Ma quando io mi accorgo che la mia mente è così, i miei alunni lo direbbero subito, dobbiamo solo fermarci, fermarci e trovare un'ancora per la nostra mente. L'ancora può essere il respiro, può essere la posizione del corpo, può essere mettere le radici nei piedi, proprio come un albero, quindi radicarci e stare e intanto vedere che cos'è che mi disturba, che perché, che cosa c'è dietro quell'emozione e quel modo di farlo così spazioso crea proprio quella, quel passo indietro rispetto all'emozione che mi permette di non identificarmi e di non reagire, ma magari di agire, che è qualcosa di molto diverso, trovare l'azione migliore, più rispondente alla situazione. Quindi magari hanno litigato con il compagno, si fermano e poi vanno a chiarire, insomma, diventa un modo di stare in classe più che delle attività che si fanno. Certo, quindi la consapevolezza mentale è sicuramente un qualcosa che investe un po' tutto, nel senso che quando una persona ha questa consapevolezza, ovviamente la porta in qualsiasi attività che svolge, quindi appunto qualsiasi compito, qualsiasi attività, che aiuti all'unni fanno in classe, appunto se lo fanno con quella qualità che è data dall'essere consapevoli di se stessi, di quello che stanno facendo, delle proprie emozioni, del contesto, della classe, degli alunni, ecco che effettivamente poi tutto cambia, quindi la qualità, insomma, delle loro attività è sicuramente molto diversa. Però ecco, dicevi che quindi l'attenzione, il problema dell'attenzione è uno di quei problemi che ti hanno portato nel corso degli anni proprio a sviluppare, no, questo tuo approccio, no, dell'uso della meditazione e della pratica della consapevolezza mentale ai bambini. Ecco, volevo chiederti, ma effettivamente il problema dell'attenzione è un problema molto sentito, probabilmente soprattutto adesso, adesso dimmi tu, nel corso dei tanti anni in cui sei stata insegnante, lavorato come insegnante nella scuola primaria, probabilmente avrai anche visto che, ecco, in questo problema, la difficoltà di mantenere l'attenzione, di essere attenti in classe, probabilmente appunto negli ultimi anni, come dicevi, in questo mondo dove siamo tutti super, iper stimolati, dove le distrazioni sono veramente tantissime, ecco, mantenere l'attenzione nella classe diventa sempre più difficile, quindi, per un insegnante, avere anche degli strumenti che possano aiutarla a mantenere la classe attente, quindi l'attenzione in classe è sicuramente importante e direi che in questo libro ecco, tu ci dai molte suggerimenti, molte pratiche, soprattutto inquadri il problema, spieghi esattamente in cosa consiste l'attenzione anche a livello di consapevolezza, di essere attenti e di prestare attenzione, però allo stesso tempo ecco, suggerisci e descrivi anche molto bene tutta una serie di pratiche, di giochi e di pratiche didattiche che un insegnante può proporre, può svolgere nella propria classe. Quindi ecco, vorrei chiederti, questo punto è un po' lo scopo di questo di questo ultimo tuo libro come come insegnante, quindi se ti rivolgi ai tuoi colleghi insegnanti o anche appunto ai ai genitori che ovviamente possano benissimo, anzi devono interagire in questo modo, no? Quindi anche attraverso la pratica della consapevolezza con i propri figli. Ecco, se ti rivolgesse loro come dovrebbero usarlo questo tuo, questo libro, aiutami a stare attento, in che modo potrebbero veramente trarre frutto e lo mettere in pratica nel modo migliore possibile quello che ci racconti, ci descrivi nel libro? Allora, ti ringrazio per questa domanda perché ho cercato davvero di dare molte, molti strumenti, molte possibilità, molti suggerimenti perché so bene proprio per esperienza che nella educazione non ci sono ricette, quindi questo ha l'aspetto di un manuale ma non puoi dire prendi questo e seguilo per filo e per segno perché i bambini, l'età, anche i bambini della stessa età sono diversi per temperamento, per carattere, quindi le situazioni sono diverse e in educazione non ci sono ricette. In questo senso anche in verso un'educazione risvegliata ho voluto dare tante strade agli educatori, agli insegnanti, ai genitori perché potessero trovare quella che a pelle sentono che potrebbe funzionare con i loro bambini e ragazzi di modo da proporla. ovviamente aiutami a stare attento è molto semplice la struttura. La prima parte si intitola la calma e il contenitore dell'attenzione e ci sono tutta una serie di attività che portano a contattare la calma, ad ascoltare il silenzio, ad ascoltare il corpo perché prima quando tu hai nominato la consapevolezza mentale mi è venuto in mente proprio questo che cos'è che porta in classe la consapevolezza in una scuola o in una famiglia il grande dimenticato della scuola che è il corpo perché la consapevolezza noi abbiamo questa ancora che è il corpo che per stare nel momento presente la mia mente se io guardo come sto adesso la mia mente di sicuro può essere facilmente a pensare il passato o persa nei progetti futuri ma una sensazione corporea è di questo momento se io sento il mio corpo qui su questa sedia anche mentre parlo sono in contatto con il momento presente ed è proprio questo che torna nell'educazione il grande dimenticato che è il corpo abbiamo una scuola e una società e un modello educativo che riempie soltanto il cervello cognitivo sembra che il corpo serva per portare la testa a scuola ma per fortuna io non mi dimentico che abbiamo proprio perché vivo con loro tante ore al giorno abbiamo dei bambini che sono fatti di corpo di emozioni e di voglia di imparare di necessità di apprendere di imparare di curiosità quindi questo va questo armonizzarsi è ottenuto in grande considerazione in tutte queste attività perché è proprio il dono della consapevolezza di tornare al corpo allora dal contenitore dalla calma che è il contenitore dell'attenzione che è la prima parte poi passiamo alla seconda parte che è imparare a focalizzare l'attenzione sugli oggetti esterni che sono un po' più facili per esempio per me in classe io non saprei più insegnare senza quella che chiamo la mia collega piccolissima che è una piccola campana tibetana perché questa campana è diventata veramente una collega è una voce gentile che ci invita a fermarci che ci invita a portare l'attenzione dentro che ci invita a fare qualche respiro di consapevolezza e quindi tanti giochi e tante attività su sui cinque sensi e sulla relazione con l'esterno quindi sull'ascolto dei suoni e del silenzio sull'imparare ad ascoltare che non è una competenza che possiamo dare per scontata anche perché siamo noi primi adulti che educano i bambini a non saper più ascoltare davvero chi ci parla con una mente libera già da pensieri da risposte o da pregiudizi mi vuole dire questa cosa cioè tutti questi inquinanti quindi i cinque sensi e il rapporto con l'esterno focalizzare la mente su un oggetto esterno un po' come l'attività del giardino che utilizzava la vista che ho raccontato prima dell'autunno di scoprire l'autunno con l'attenzione poi c'è un'ultima parte ma sono le tre sono interconnesse procedono insieme che è un po' più sottile un po' più difficile ed è imparare a tenere focalizzata l'attenzione sugli oggetti interni che sono un po' più labili un po' più difficili da mantenere da tenere vivi nella presenza mentale ad esempio il respiro ad esempio le sensazioni del corpo il discorso del corpo apre anche tutto il discorso dell'alfabetizzazione emotiva che va insieme a quella corporea perché i bambini imparano a governare a governare a conoscersi a capire ah nel corpo questa tensione forse sto provando paura imparano davvero ad autoregolarsi e questo è uno degli obiettivi più alti del libro questo benessere perché quando poi sappiamo stare bene con noi stessi lo sappiamo sappiamo stare bene nelle relazioni con gli altri esattamente come hanno detto loro ritorno alla loro saggezza dei miei bambini di otto anni la relazione è un atto d'amore l'attenzione è un atto d'amore ed è vero quando sto parlando con la mamma con la maestra col compagno quando mi sto occupando di qualcosa con attenzione e ci metto la cura quella è l'energia dell'amore della presenza e l'attenzione è relazione quando siamo in una buona relazione con noi stessi sappiamo esserlo anche con il mondo e quindi abbiamo capito che l'attenzione non è quello che si intende come un è per lo meno soltanto quello che si intende comunemente come fare attenzione appunto a quello che succede in classe o prestare attenzione a determinati contenuti ma è anche quello che hai appena detto tu quindi questa attitudine non nei confronti degli altri del mondo ma anche e soprattutto di se stessi che è appunto un'attitudine così di prestare attenzione di prestare cura di interessarsi e quindi anche a livello direi di empatia a livello di compassione a livello appunto quello che potremmo definire come come l'interessere no? questo concetto dista per cui siamo non siamo delle entità così veramente individuali un concetto della fisica quantistica no? se ci pensi questo è della teoria dei sistemi questo interessere cioè noi siamo in relazione a tutto il contesto per cui stiamo parlando di crescere bambini che poi si prendono la responsabilità dei loro gesti perché tu hai parlato di empatia di compassione e a partire dall'attenzione attenzione agli altri vuol dire anche a come stanno gli altri allora vedi bambini che si attivano quando il compagno è triste e portano la loro consolazione una parola gentile insomma è proprio e secondo me come dico verso un'educazione risvegliata è molto importante che noi educatori che siamo insegnanti o genitori sappiamo che abbiamo chiari quali sono i semi che vogliamo coltivare se vogliamo un'umanità che sia più solidale più sensibile più attenta e più responsabile ecco forse dobbiamo proprio innaffiare e coltivare un certo tipo di semi e io questa è la direzione che io ho trovato ed è per questo che ho scritto dei libri tutti intorno a quest'argomento perché penso che sia proprio la direzione in cui possiamo andare così per amore dell'umanità è certo quindi sì e quindi anche la classe diventa un po' un microcosmo di questo mondo che hai appena hai appena descritto quindi insomma ricreare nella classe i rapporti tra i bambini e i bambini e i loro insegnanti questa questa questo tipo di di interazione un mondo che si spera appunto possa essere possa diventare migliore qualche sembra che ne abbia molto bisogno in questo momento esattamente in questo in questo momento soprattutto ne abbiamo veramente tanto tanto bisogno e bene io direi che sì è un libro veramente molto molto utile per per gli insegnanti per i genitori perché si si concentra su un problema molto molto sentito che è quello dell'attenzione però allo stesso tempo appunto ci apre no questa a questa dimensione molto più più vasta e profonda che è quella che invece appunto concerne quello che vogliamo essere in relazione al mondo e in relazione alla agli altri alle persone che appunto che ci circondano e direi che il tempo ormai sta per per concludersi io ringrazio molto grazie per per essere qui con noi per essere con noi a raccontarci del suo libro aiutami a stare attento e che appunto che appunto è in tutte le librerie online come sai come sanno mai le persone che che ci seguono questo nostro incontro che appunto si chiama bicchiere della staff si conclude con il bicchiere della staff appunto che nel caso di grazia eccolo qua eccolo lì è un nebbiolo artigianale wow e niente un grappino non artigianale però ah lo vedi e allora non ci resta che berlo non in modo distratto ma in modo attento assolutamente come dei veri sommelier perché se ci pensi il sommelier vive un'esperienza veramente di attenzione e presenza e gusta davvero il vino ecco questo io vorrei insegnare attraverso questo libro a grandi e piccoli a gustare la vita come si può gustare davvero come un sommelier sa gustare il vino facciamo così allora c'è con sapevolezza salute e grazie 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 a tutti